Domani giocheremo contro una squadra molto ostica che nel girone di andato ha procurato la nostra prima sconfitta. La Roma-Visnova è una squadra caratterizzata da una grande fisicità, allenata da un campione storico, uguale Alessandro Valcaterra, ed ha in rosa ottimi elementi, tra cui Maras, il mancino serbo, anziché Parisi, un ottimo centro buono. Noi ci siamo allenati bene tutta la settimana, abbiamo provato i nostri schemi e certamente ci faremo trovare pronti a quest'ennesimo appuntamento difficile. Sì, una eventuale vittoria probabilmente chiuderebbe il discorso salvezza, se non matematicamente, ma chiaramente ci proietteremo ancora di più ad una classifica che guardi più verso l'alto. Noi proveremo a fare questi tre punti che, ripeto, saranno pesantissimi. Per il resto, di settimana in settimana, guarderemo la classifica nella speranza di poter raggiungere quello che per noi oggi resta sempre un sogno, che è la qualificazione play-off, che è comunque abbastanza realistica.